La risoluzione di problemi di idrodinamica richiede una procedura iterativa, in quanto non è possibile conoscere a priori i regime del moto e non esiste una forma chiusa per esprimere i coefficienti di fanning. L'algoritmo presentato, sviluppato per la calcolatrice programmabile Texas TE-Inspire CX-CAS, permette di automatizzare la procedura, consentendo di calcolare rapidamente i coefficienti di fanning o funzioni di resistenza e le portate transitanti in un sistema di tubazioni fa preusserbatoi. Per utilizzarlo sulla vostra calcolatrice programmabile, sarà necessario installare sul vostro computer il TE-Inspire CAS Student Software. Lasceremo il link in descrizione al video. Questo è un problema rappresentativo che verrà utilizzato per illustrare il funzionamento dell'algoritmo. Per poter eseguire il programma è richiesta la conoscenza di alcuni parametri che andranno inseriti come input. Questi parametri riguardano le informazioni sulle caratteristiche dei tubi, quindi lunghezza, diametro e scabrezza, sulla struttura del percorso, quindi coefficienti di dispersione relativi a fenomeni localizzati, sullo stato energetico dei serbatoi e, infine, sulla densità e la viscosità del fluido transitante. Sarà inoltre necessario scrivere il bilancio energetico tra Montevalle prima di cominciare. La prima cosa da notare è che l'energia del serbatoio B è più alta di quella del serbatoio A, quindi deduciamo che il flusso sarà da destra verso sinistra. È quindi possibile scrivere il sistema di equazioni relative al bilancio energetico e all'equilibrio ai nodi. Tali equazioni dovranno essere opportunamente inserite all'interno del programma, come verrà ora illustrato. Una volta scaricato il software e aperto il nostro file, sarà possibile trasferirlo ed utilizzarlo sulla vostra calcolatrice, dove apparirà come in schermata. I punti su cui ci soffermiamo sono gli unici che andremo a modificare, inserendo l'equazione di bilancio corretta, e le relazioni tra le portate. Per maggior chiarezza, evidenziamo le sezioni da modificare anche in modalità computer. Nel secondo foglio andremo ad inserire i dati del problema. Troveremo, già inserite, l'accelerazione di gravità ed una funzione per il calcolo delle aree. Per evitare errori, andremo ad inizializzare una variabile per ogni dato, in modo da avere le equazioni in forma letterale. Nel nostro caso, abbiamo già preparato un file contenente tutti i dati. Il passaggio successivo sarà scrivere l'equazione di bilancio, preparata preventivamente, utilizzando la funzione zeros. Scriviamo subito l'incognita, nel nostro caso q1, e quindi l'equazione, sfruttando la funzione per l'area e le variabili create sul foglio 2. Poiché i coefficienti di funning saranno salvati in un array, dovranno essere scritti nella forma fd, parentesi quadre, iterCount, virgola, numero del tubo, dove iterCount non va modificato e numero del tubo è quello a cui il coefficiente si riferisce. La funzione zeros e tutto il suo contenuto vanno quindi copiati e sostituiti a quelli presenti sul foglio 1. Adesso bisogna inserire le relazioni tra le portate, utilizzando un accorgimento simile a quello adottato per le funzioni di funning. In questo caso, ogni portata avrà la forma qd, parentesi quadre, iterCount, virgola, numero del tubo, ad eccezione di quella scelta come incognita principale, nel nostro caso q1, che sarà espressa univocamente come qd, parentesi quadre, iterCount, virgola, qindex. Controlliamo la sintassi e salviamo. Per chiarezza, ora mostriamo come appare il tutto. Torniamo al foglio 2 e richiamiamo la funzione Fluidi. Inseriamo i dati richiesti, sfruttando le variabili che ci siamo appena creati. Nel nostro caso abbiamo due scabrezze. Inseriamo la prima, E1, ed il primo diametro, D1. Facciamo lo stesso per la seconda, E2, e il secondo diametro, D2. Immettiamo l'indice della portata incognita, nel nostro caso 1, perché abbiamo espresso tutto in funzione di q1. Infine, immettiamo la viscosità cinematica. A questo punto, il programma ci stampa il numero di Reynolds e la scabrezza relativa. Andiamo quindi a controllare sul diagramma di Moody il regime del moto. Nel primo tubo siamo in moto di transizione, quindi rispondiamo con 1. Nel secondo caso, siamo in condizioni di tubo scabro, quindi inseriamo 0. Verranno stampati i risultati di tutte le iterazioni fino a convergenza raggiunta. I risultati combaciano con le soluzioni riportate sul testo dell'esercizio. Come ultimo step, è possibile salvare i risultati in altre variabili, per poterle poi usare in eventuali operazioni successive. Ricordiamo che i risultati sono salvati nella forma QD, parentesi quadre, iterCount, virgola, numero, dove, in questo caso, iterCount sarà l'ultima iterazione performata, nel nostro caso, la quarta. Grazie a tutti.